Monesi riparte, Presidente Abo, riparte anche da dove era rimasto e sono venuti meno anche caduti certi contenziosi che c'erano con le proprietà precedenti. Noi all'interno di quello che è il progetto Monesi abbiamo messo molta operatività perché oggi si è riunito quello che è il tavolo istituzionale ma il lavoro che è stato presentato oggi in realtà è stato preceduto da un tavolo tecnico che ha operato parecchie volte e ha fatto parecchie riunioni ed è quello che ha stilato anche un po' quello che può essere non dico cronoprogramma ma comunque tutto il cammino che ci attende adesso in futuro. Per quanto riguarda i contenziosi non è un problema nel senso che esiste avere un piccolo contenzioso con la proprietà attuale con cui stiamo però trattando soprattutto in previsione di quelli che saranno gli utilizzi successivi dell'area quindi penso che questa vicenda poi arriverà a normale soluzione.